Ospiti di Patrick in Soundbox sono le focche d'artificio Vizzo, Vivis, Sviano, Rico, Vindes Vizzo, Vivis, Sviano, Rico, Vindes Vizzo, Vivi, Sviano, Rico, Vindes Il nome? Foghe d'artificio è stato lui tirarlo fuori perché è così, miscelare un po' l'utile con il dilettevole insomma Il pezzo che ci presentate oggi si chiama tunnel Tunnel praticamente bisogna vederlo come una luce scura Che praticamente il protagonista vuole venirne fuori Perché praticamente il tunnel è, non so, qualsiasi cosa brutta che, non so, ad esempio il tunnel è tipo droga, altro così Però praticamente bisogna stringere i denti e venirne fuori sempre Abbiamo un po' l'utile con un po' l'utile che ti presenta come un'evi, anche un piccola E chi compone i vostri testi? Le testi solitamente le scrive Massimo e poi niente, per il resto la musica la tiriamo fuori insieme. Anche tu contribuisci nelle musiche? So che suona anche il basso, per esempio. Per finta? No, no, no. Io con la musica c'entro poco, dobbiamo meritare, sono loro che li fanno tutti. Io prometto quello che posso con la voce. La voce La voce C'eravamo io e Trevino che suonavano già insieme, poi va il bintese da un'altra parte, Fabrizio, Fabrizio. E niente, dopo ha cominciato lì con l'idea di mettersi in un gruppo, ha chiamato, suonito me che tanti eravano già in contatto. Poi dopo, niente, ero nei militari, non c'era tutto, quindi me lo diceva pian piano. Lui come aveva detto che aveva preso Fabrizio, che già lo conoscevo, poi ha detto di prendere questi due qui, che bene o male io... E' stato assolutamente... Non c'era niente a fare. Per posto, lui e lui. Quando sono arrivato giù, che l'ora avevo già suonato insieme un po', arrivato giù, che avevo praticamente... Mi ero congedato, sono arrivato giù e ho cominciato a suonare con loro, facendo pezzi cover, poi dopo pezzi nostri. Vogliamo dire anche come si può fare per contattarvi? Per contattarci mi telefonateci, il nostro numero è 1441414 e vale per tutta l'Italia, senza prefisso. Noi siamo alle fuoche d'artificio, vi salutiamo, mi raccomando contattateci, perché... Perché? Mi raccomando, il numero l'ha già detto lui, noi siamo qui, heavy metal, ciao! Ciao!